doppia clamorosità mamma mia sono rientrato adesso sai che il Milan sta a perde con le seconde linee sta sempre a perde con il Riega ha perso ha perso 2-0 ma l'assurdità più assurda è che l'Atalanta fa il colpaccio, batte il Lione prima nel giro, ma pure il Milan era primo nel girone anche con sta sconfitta però l'Atalanta ragazzi miei, scontro diretto contro il Lione, lo ha pizza a tutte 1-0, gol di Petà Pataccagna chiamatelo come mi pare e va prima appunto in classifica mi pare 14 punti contro i 11 ma salutiamoci ragazzi, ben ritrovati, buonasera che cosa vuoi dire a riguardo? voglio dire che sono sorpreso in modo piacevole per quanto riguarda l'Atalanta molto meno per quanto riguarda il Milan che comunque si, pieno di seconde linee stava a giocare con Zanellato Zanellato è un'altra cosa a centrocampo, poi qualche altra seconda linea in difesa praticamente era un 3-5-2 è stato rispolverato Paletta è stato rispolverato giustamente Zapata pure Storari e quant'altro Antonelli allora ci si poteva aspettare comunque una squadra piena di seconde linee perché era una partita che non contava niente assolutamente soprattutto per il valore dell'avversario perché comunque riega poca roba però ecco fa dispiacere perché resti un po' sorpreso ma non solo resti sorpreso ma il valore delle squadre è comunque bassissime bassissime diverso c'è un dislivello c'è un dislivello ecco dai parliamo sempre del Milan che con tutte le riserve è il Milan e riega che riega fatto sta che riega vince 2-0 ma questo poco importa perché entrambe Atalanta poco male Atalanta e Lione stava a dire e Milan si qualificano da prime e ci saranno i sorteggi già l'ho detto oggi pomeriggio noi faremo anche il video del sorteggio nostro li facciamo noi mamma mia Champions ed Europa League ma chissà poi realmente chi vanno a beccare come teste di serie e beccheranno una seconda classifica ma sarà tosta ci stanno pure le squadre dei Champions che sono scesi c'è l'Atletico Madrid ragazzi c'è sta pure il Napoli vabbè non per l'italiano insomma però in generale c'è il Napoli il Villareal tante squadre non è sceso dalla Champions ma vabbè non mi ricordo insomma c'è che stanno tante forti tante tante forti non c'entra pure le Villareal ma non lo so ma stava legge stamattina delle avversarie che potrebbero capitarle italiane e so alcune proprio toste molto molto toste vabbè e quindi insomma fateci sapere voi che cosa ne pensate nei commenti stasera al post partita da Lazio ci risparmiamo perché è veramente una partita inutile abbastanza inutile oggi l'ho voluto fare perché comunque l'Atalanta ci ha sorpresi era un big match e io ho detto vabbè perché non farlo che passa da seconda invece la fine è passata da prima e ci tenevo a precisarlo quindi lasciate un bel mi piace su questo video commentate condividete iscrivetevi al canale alla prossima con un nuovo video va bene ciao ragazzi